Mi chiamo per la villa al mare, vedo che è stata appena messa in vendita. La voglio vedere? Ha detto la voglio vedere o la vorrei vedere per favore? Sabato va bene? È una rivisitazione magnificata anche di alcuni, ma non di cliché, però anche di ideali diffusi di una certa parte di pensiero politico. Io se si presentasse corto maltesa alle elezioni lo voterai subito. Io ho il colon e il barbaro. Il colon è fascista. Non ci sono personaggi veri, realmente esistiti, neanche personaggi politici, però nella confusione che c'è, questa c'è un'attualità incredibile, cioè in cui gli spettatori o gli elettori, o chiamiamoli come vogliamo, comunque si possono identificare, questo è sicuro. Senti rimasti tu e alcuni talebani a credere ancora a cose tipo destra e sinistra? Fai molta attenzione, c'è il rischio che quella là ti faccia diventare un essere umano. Questo film mette insieme il bene e il male, nessuno è solo bene, nessuno è solo male. Nella vita il bene e il male sono insieme, misti, si fondono, si confondono, e quindi anche qualsiasi nostro interlocutore ha entrambe le cose. Dipende anche un po' a te essere, vedere cosa tiri fuori dall'altro. Domani voglio provare a essere come una di quelle che piacciono a loro. Vai Nina, buona fortuna. Allora, economia, libertà o uguaglianza? Libertà. Paese emergenti. Bombardare e poi ricostruire? Eroi. Ubriatore, Chuck Norris, Topolina. Ma io guarda, mi innamoro col cuore e vivo la relazione con la razionalità. Oh, meraviglio, sta completa. No, guarda, io c'è un condominio, quindi tra l'altro, il cuore al cervello, ahimè, ti sei perso un'altra parte importante, diciamo, dell'animo e del corpo umano. No, che lo mangi, che bambi, tu mangi il sushi, tu mangi il sushi, che bambi di sinistra e il sushi di destra. Ce la faremo male!